Siamo con Gianluca Zanoni della lista civica Siamo Vercelli. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Allora iniziamo a parlare di questa nuova lista civica che sarà attiva per le prossime elezioni del sindaco a Vercelli. Certo. Siamo Vercelli è una lista civica, civica nel vero senso della parola, nel senso che è nata da cittadini comuni, è una lista senza simboli di partito. L'idea nostra è che una buona amministrazione non deve essere per forza legata a un colore politico, a un'ideologia. Ci vuole pragmatismo, buonsenso e soprattutto competenze. Noi siamo un gruppo di imprenditori, professionisti, impiegati, ognuno di noi ha una competenza specifica tanti sono attivi nel volontariato per cui abbiamo deciso di portare le nostre capacità e competenze sia lavorative sia che abbiamo sviluppato col volontariato anche nella gestione del comune. Siamo Vercelli a intenzione di presentarsi da sola anche perché è un programma ben preciso. Difatti noi abbiamo fatto il percorso vero che dovrebbe fare una lista civica. Si è agruppato un gruppo di persone competenti secondo vari punti di vista. Abbiamo stilato un programma molto preciso che si può trovare sul sito www.siamovercelli.org. È un programma che può essere arricchito col contributo dei cittadini. Tant'è vero che sotto vedrete una cassetta suggerimenti. Ricordiamo nella sede di via Fratelli Bandiera numero 5. Esatto, 1-C. Qualche cittadino ha già dato il suo suggerimento per migliorare le cose. Questa sembra la vostra caratteristica a qualità principale quella di essere vicini alla cittadinanza. Esatto e soprattutto non abbiamo la pretesa di sapere tutto ma chiediamo anche aiuto ai cittadini di darci una mano per migliorare il programma che ripeto io trovo già molto interessante. Il primo step è appunto mettere giù un programma, trovare tanti volontari. Siamo in questo momento qua 70 persone attive, quindi volontari che sono una parte in un grande in gramma e una parte stanno lavorando nelle commissioni tematiche perché quel programma che voi vedrete è stato fatto da varie commissioni. Commissione bilancio, commissione lavoro, commissione salute, ambiente, insomma ci sono vari tipi di competenze per cui poi ognuno ha detto la sua su un campo dove può dire la sua. Abbiamo un programma dove prevede un piano di insediamento per nuove aziende qua a Vercelli con incentivi a delle aziende che vengono da fuori per mettere la sede qua a Vercelli come per esempio utilizzare immobili del comune che non sono utilizzati dall'incomodato gratuito con ovviamente obbligo di manutenzione e obbligo di assumere persone di Vercelli, di sviluppare l'ufficio Europa che mette in contatto Vercelli con le opportunità europee per ricevere fondi perché come tutti sanno ci sono molti fondi europei che in Italia poi non vengono utilizzati per cui questi sono fondi che possono essere utilizzati a Vercelli senza prelevare dalle tasse dei cittadini perché comunque la nostra intenzione è migliorare la qualità della vita, aumentare i posti di lavoro a Vercelli senza ovviamente aumentare le tasse che siamo a un livello insopportabile. Nel programma vedete anche un taglio di sprechi, il primo che abbiamo fatto abbiamo riportato vari esempi di altre città che hanno fatto una spending review mirata tagliando spese non produttive, vogliamo trasparenza del comune quindi se vinceremo pubblicheremo sul sito del comune tutti i fornitori e le fatture del comune così si evitano insomma quello che succede ogni tanto che si passa la consulenza che non serve a niente l'amico dell'amico per avere voto, noi faremo tutto in modo trasparente, abbiamo tante idee insomma tante idee con cui crediamo di rilanciare la città, la prima ce l'hanno già copiata tutti ossia noi abbiamo detto di ridurre gli assessori da 10 a 5 ma nessuno l'aveva fatto, l'abbiamo dichiarato un mese fa adesso ho visto che sui giornali dalla parte e dall'altra dicono tutti ridurremo gli assessori a 5 per cui già il piccolo contributo a Vercelli l'abbiamo già dato. La vostra lista ha riscosso tanto entusiasmo in queste prime settimane però non c'è ancora un candidato sindaco, anche questo da questo punto di vista chiedete alla cittadinanza anche di segnalare una persona? Perché è una vera lista civica, ci sono due tipi di liste civiche, quelle tra virgolette mascherate, ossia i partiti scegliono una persona della società civile e attorno li costruiscono una lista e quella non è una lista civica, è una lista di partito mascherata. Poi ci sono le liste civiche reali come la nostra dove nascono da persone che non vengono fuori dalla politica, decidono di mettere giù delle idee, queste idee sono piaciute, il gruppo si è allargato e adesso che siamo tanti, abbiamo inaugurato la sede e abbiamo definito tutti i vari punti su cui vogliamo puntare per rilanciare Vercelli, tra questi sceglieremo il sindaco e le 32 persone che andranno in lista. Tempo stimato per questa scelta? La prossima settimana, fino alla prossima settimana dovremo avere già notizie interessanti e tra l'altro speriamo di, non solo per noi ma per la cittadinanza, se verrà confermato il nome con cui stiamo trattando sarà un nome veramente importante, importante nel senso di una persona capace che ha dimostrato nella nostra vita di fare cose importanti.